ciao a tutti come avete immaginato questo video è fatto in collaborazione con voi perché su instagram e su youtube nella sezione community dove si pubblicano gli stati avevo chiesto quali erano le vostre impressioni su questo apple event che c'è appena stato e in alcuni avete risposto e quindi andiamo a vedere che cosa sono state le vostre impressioni e poi argomento anche sulle con le mie ma prima di tutto intanto vi chiedo il supporto al canale come sempre con un bel mi piace al video iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e magari attivate le notifiche per non perdervi i futuri partiamo già con le vostre impressioni il nuovo viola è da volare via non lo so non riesco a capire se è bello e brutto perché riflette strano ho guardato anche rille storie e quant'altro di gente che era fisicamente la a copertino a vedere i nuovi dispositivi e ha dei strani riflessi è molto scuro come viola con alcuni riflessi sembra quasi azzurro blu in altre situazioni sempre quasi nero è molto particolare altra considerazione è peccato per watch 8 non squadrato e con prezzo maggiorato allora rispondo alla prima parte perché per la seconda ci vediamo dopo watch 8 si deluso anch'io perché è il 7 praticamente 7 con un paio di cosette in più penso che il design squadrato sopra lo vedremo l'anno prossimo o al massimo tra due anni perché ormai è stato sdoganato questo design squadrato e flat con l'apple watch ultra è probabile che visto che ormai è assodato che i pro o ultra nel caso del watch hanno design e funzionalità nuove e processori e quelli normali stanno un po indietro l'anno dopo la roba dei pro vecchi passa su quei normali ci sarà questo scaglione ormai diciamo che è un po chiaro federa anzi watch ultra atomico isola dinamica dei pro mi sembra un'ottima idea prezzi folli anche qui per i prezzi dopo l'apple watch io l'ho detto subito appena l'ho visto pubblicato una storia mi ero innamorato mi sono innamorato quell'orologio è una figata totale totale per me chiaramente c'è gente che dice non serve una mia a me piace è bello e non sarà magari per certe cose livelli di sport watch dedicati che fanno solo roba per lo sport soprattutto per la batteria ma però è un primo passo di apple nell'ingresso in quell'ambiente ed è ostico vista la concorrenza soprattutto di nuovo lato batteria la dinamica island si tanto bella ha automaticamente reso vecchi anche i 14 lisci già tu prendi l'ipotetico prendi un iphone 14 adesso lo prenoti sapendo già che in giro c'è qualcosa col design aggiornato ci compri qualcosa di già vecchio praticamente boh tra parentesi non so se si è capito sconsiglio l'acquisto dei 14 lisci black blood 70 618 ho un apple watch a sede del 2020 o 21 non ricordo che è quello secondo te conviene passare all'otto dipende dipende se riserva il sensore dell'ossigenazione del sangue dette in soldoni perché io non sono un fan dell'always on display neanche sull'apple watch infatti lo vedete che appena lo giro si scurisce perché ho disattivato l'always on nel serie 7 e anche nel serie 6 l'avevo disattivata perché se sto così non mi interessa che si veda lo schermo a mente adesso che se faccio così per guardare l'ora la vedo io cioè se non ti servono quelle funzionalità per la salute che sono l'ossigenazione del sangue e le altre lascia stare però se sei una donna e ti interessa il senso di temperatura per l'ovulazione ecco allora sì l'apple watch 8 acquista molto senso ma giusto per la questione ovulazione ultima domanda è di scalisandro che dice io voglio che parli dell'apple watch ancora non ho visto il tuo video perché sono al lavoro allora intanto spero che tu l'abbia visto ormai il video di apple watch adesso ne parlo perché uno dei due punti focali di questo video l'altro sono appunto i soldi il costo dei dispositivi apple watch intanto apple watch la vedo un po come l'anno scorso l'anno scorso ve l'ho detto ha cambiato l'apple watch dal 6 perché il 6 è appa è stato fatto un passaggio di testimone e io mi sono tenuto questo ma vi do la stessa risposta dell'anno scorso non vale la pena fare l'upgrade abbiamo un watch 8 che di diverso dal 7 senso di temperatura per l'ovulazione e come penso possiate immaginare non sono vagina munito quindi di quella questione non me ne faccio niente e così come me tutte le altre persone di sesso maschile non se ne fanno niente di questa funzionalità perché da come è stata messa giù è prettamente per la temperatura corporea per l'ovulazione poi magari si scopre che funziona anche per altro però attualmente è incentrata su quello e il crash detection ha senso ma soprattutto se puntate a prendere un iphone della serie 14 per il resto no non ha assolutamente senso fare l'upgrade non ho finito per la questione apple watch perché è un po un ponte tra la questione apple watch e questione monetaria apple watch ultra coi suoi mille e nove euro allora come ho detto nel nel video di recap teniamo conto che se io vado a cercare un apple watch serie 8 apple watch 8 con cassa in acciaio siamo 909 euro cassa 45 dall'altra parte invece abbiamo un apple watch ultra che ha materiale più premium perché il titanio è più premium dell'acciaio abbiamo un vetro estremamente migliore perché il vetro zaffiro negli apple watch normali abbiamo il vetro tra virgolette normale di la invece nell'appl watch ultra abbiamo un vetro zaffiro e un sacco di roba in più e quell'orologio costa 100 euro in più rispetto un apple watch normale non mi sento di puntare così il dito su quell'orologio anzi anzi unpopular opinion è il suo prezzo ci sta come costo potevano semplicemente avanzare quei nove euro e fare mille tondi ma vabbè però per il resto secondo me è il suo prezzo anzi non neanche così eccessivamente esagerato visto quello che porta e i materiali usati ho parlato l'ho detto dovevo tirarmelo fuori sta cosa lo so che mi ucciderete nei commenti qua sotto per quello che ho appena detto però andiamo a vedere per esempio una marca che io adoro veramente io amo questa marca che è la garmin andiamo a vedere l'ultimo ritrovato di casa garmin più famoso il phoenix e andiamo a vedere il phoenix 7 con schermo in zaffiro solo che questo anche un po di ricarica solare abbiamo un phoenix che costa mille euro 999,99 comunque abbiamo mille euro di phoenix ea si tantissime funzionalità al lato sport è indubbio quello deve fare vorrei anche vedere però a parità di materiali e tutto vediamo che costa comunque mille euro e non ha tutte quelle funzionalità smart di un apple watch uno smart watch se andiamo a togliere la funzionalità solare e il vetro zaffiro e quindi di conseguenza viene meno anche la cassa in titanio cassa da 47 mm andiamo a 700 euro non è che ci distanziamo più di tanto da un apple watch in questo caso apple watch 45 avevamo detto che costava 909 qui costa un pochino di più per assurdo è sovrapprezzato la versione in acciaio non l'ultra torniamo a parlare della questione economica perché in realtà qui è stata sollevata la questione per i prezzi soprattutto in merito apple watch ma più anche in realtà generica non è colpa di apple tra tante virgolette se i prezzi si sono alzati qui in italia in europa perché in realtà in america sono rimasti gli stessi dell'anno scorso è il cambio che ci frega sono le tasse diverse che ci fregano e loro il loro lo hanno fatto hanno tenuto gli stessi costi poi che tutta la filiera faccia sì che i costi aumentino purtroppo apple ci può fare ben poco e ricordo sempre che i prezzi presentati in presentazione sono esentasse per esempio se io dovessi fare un conto quelli che vengono chiamati per lo meno qui nel nel modenese i conti della serva abbiamo un apple watch ultra che sta a 799 dollari per 22 diviso 100 che banalmente soliva abbiamo 175 78 andiamo a sommarli a questi 799 dollari e abbiamo 974 euro solo di iva in più c'è da aggiungere trasporto e bababa quei 30 euro si fanno in fretta a far su e ragazzi vorrei dirvelo in realtà non mi sento di accusare così tanto purtroppo la situazione quella che è e non si può neanche pretendere che un'azienda si accolli il inflazione tutto quello che sta succedendo in questo periodo apple come le altre aziende non sono delle onlus e sto parlando da persona che è andato a vedere i costi in euro c'è rimasto veramente male e chi ha visto il video di due giorni fa lo sa ci sono rimasto veramente corto con quei prezzi che ho visto però ragionandoci a sangue freddo purtroppo la situazione questa non possiamo pretendere che apple o chi per lei che sia samsung quant'altro perché tanto aumenteranno tutti assorba il male che sta succedendo e basta col pippone basta quindi le cose importanti vedete a inizio video per far crescere il canale e darmi andare avanti e basta ci vediamo settimana prossima con un prossimo video ciao ciao